e in chissà quanti livelli ci sono bullet station per ogni squadra dirigiti alla base di eggman ehi date un busto anche a me strombio no non è lì vitto mi perché c'è uno volante fammi cambiare scusa ok immagino parli dell'omine attack oh na cosa lo chiama homine attack beh se mi fai con l'animazione certo che non posso farlo imbecille ci provo guardate che me lo fa riprovare beh non era abbastanza sai non so qual è il vostro intento che cazzo è questo ok canoni non attivi boh non so quanto devo servire ciao ci ho provato power come voi oh grazie non è morta quella vero ok sto per incazzare ok carino il treno effettivamente il fatto che ci siamo i treni sui binari non noi mi sta molto meglio scherzavo scherzavo ah io penso sce punto scamativo l'ho visto ma quello di solito vuol dire sono fine binario ok ok come dovrebbe essere questo c'è power o speed perché entrambi vanno bene credo possa direzionare questi canoni effettivamente non che ci sia molt'altro non è la morte vero perché io ci provo ancora knuckles cambia sta merda avrei cambiato sai grazie ok grazie va fallo mi fa cacchera addosso mi prego che non sia più veloce magari col terzo avrei potuto schippare per quella parte anzi bucchiamoci basta andiamo all'unica parte che chiaramente c'è qualcosa però devo riuscire a staccarmi qui beh questa è per la chiave che perché questo vuol dire morte c'è quello di spaccare una cazzo di gabbia e mi uccidi così perché due coglioni perché cadi come un masso non cazzo non cazzo non cazzo Cree Ma che cavolo Che frecce non mi sembra avere senso Ma Vi ho cambiato entrambi una volta Vediamo Anche solo entrare in questi binari è spaventoso C'è un punto migliore Prendere questi binari Ok Qua Stavo quasi per suicidare Per niente Tu pezzo di merda Riproviamo Non che ha proprio il buco Brannato Facendo così Oh Cosa faccio No 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 Chi sapeva che c'era una pedana lì sotto Mi intente non morire Io devo buttarmi così nel vuoto Chi era il chezzo di cane E adesso Ok Immagino che anche queste cose possano Avere la chiave Eh capito Dove mi butti Dove mi butti Ho tenuto per un punto B Spero sia servito E che Anzi Spero che non sia servito Però Questa cosa di tele-switch Un po' Ok Cioè mi devo obbligare che ci siano tutti e tre Ma Sono sempre con me What Ben Ammazza sta cosa No E Annelli mancati Ma sai In questo gioco Sono più precipici Che ti ammazzano Non i nemici Quindi Annelli Servono per il bonus Ma anche Però Si possono prendere tutti Anche con una singola squadra E c'è una squadra specifica Dove è consigliato A prenderli E Voi Vole il bonus Cosa ti ha impedito Di coprire Sto cretino Ok Paura Non farmi reagire Posso occupire i palloncini Avesse appunto Potevo farlo anche prima Anche con tutti questi pannelli Ma cos'era quello Perché mi vuoi così male Gioco No Io che ne posso Cosa posso saperne Sperne Grazie. Grazie. Ok. Ok. I died. Buono sapersi Quanto cazzo è ridicolo La manovra che devi fare lì Io quando non vedo mi affido a te gioco Perché io qua di sicuro non posso predittare Dio che scende in terra Che cavolo è ira quella roba C'è poi Perché fly Ah è un rain Ciao Anche questo sta di familiare C'è infatti il Gino è un altro video Ah ma cazzo sti covi Lui sparate a caso Ok Vai Questo era super guidato Speed Perché Perché speed Ma io non mi fido di sta stronzata Cos'è questo Non so che cavolo è che facessi lì ma Speed non so dov'era la risposta a quello Non c'erano anelli Che mi facevano fare quella cosa Magari qualcosa che ancora non ho capito Ma Probabile Cos'è sta roba Giusto Quindi Oh maddio cane Sonic Fai quello che sei cazzo programmato a fare Sonic Oni Anello Anello La prende il primo ma l'altro li lascia Ma che coglione Sì Muori per sempre Grazie Questo è super guidato Giusto Allora Spawnato qualcosa che devo spawnare prima Non mi sembra Ok veicolo Ora so che devo saltare Bene Bene Se cari te Non possiamo più saltare Sonic è quello che lo accelera Tant'è che adesso siamo lenti Vabbè Preferisco Guarda Spero non richieda Essere veloci E' ancora crash Cosa Fate voi va Perchè Sei ancora in vita Meccanica 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 Poi non lo metto Au Come faccio Se non ho la velocità Non posso neanche direzionarmi Cristo Dio Vai in mezzo Me ne prego Non saltare Non saltare No Dammi quel cazzo di ceppone Con la macchina odiosa La usare E via Perchè è qui Bene Ora uno può tornare Bene Vabbè Uno è tipo dentro Con la gabbia L'altro Smetti di girare Mentre la camera L'ultimo che devo fare Quello ho capito E il terzo Smetti là Teos Servi te Perchè sei il primo Che se ne va Qua da qua Ok C'è proprio Un pattern Specifico Perchè sennò Non può riuscire Ad andare avanti Questo non si attaccano Ora questo interruttore Noi ancora questi cannoni Se voi siete ignorabili Ciao Basi di Eggman Potremmo farci Oh Altri poloncini Bene vita E tanti anelli Comunque Cosa hanno fatto Cos'hanno fatto Per evitarsi La morte Vabbè Non solo che è finita Per noi Dammi tanti anelli Magari c'è un bonus Non ricordo Erano tipo 100 di anelli Per entrare nel bonus Vediamo se riusciamo a fare qualcosa Ma Vincere almeno uno per team Non sarebbe male Proprio anche perchè Effettivamente I team Una cosa che ho detto È che Sono anche diversi Di difficoltà Loro sono gli standard Evil forse sono Forse sono i più difficili O forse è Caotix Ma La squadra delle femmine Sicuro è la squadra La più facile Apparentemente Ma vaffanbrodo È abbastanza per bonus Se no Arrivederci